Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, al termine della riunione dell'organismo si è fatto portavoce delle richieste avanzate dai primi cittadini in questo momento di estrema difficoltà. Per prima cosa è stata unanimamente ribadita la responsabilità che i sindaci devono assumere in maniera condivisa, al di là di schieramenti e posizioni, davanti a un aumento del contagio da coronavirus che il sistema sanitario sta affrontando con affanno. Sarà necessario gestire dunque la fase attuale con grande spirito di collaborazione e cooperazione, in sintonia con l'Asla Teramana. Abbiamo poi condiviso la richiesta, da me già avanzata alla Regione, nella veste di presidente del Lanci, dichiara in una nota d'Alberto, di fare chiarezza sulla situazione dei tamponi effettuati nei laboratori privati. Dopo aver rappresentato lo stato delle cose, ho ottenuto piena condivisione sulla richiesta di convocazione urgente di un tavolo scolastico regionale. Questo perché tutti i sindaci hanno riconosciuto lo stato di difficoltà in cui versa soprattutto il sistema della scuola. Da qui la richiesta di tamponi rapidi per il personale scolastico e di messa a sistema dei laboratori privati. Per Dalberto è indispensabile che la Regione emani un'apposita ordinanza. Inoltre è stata definita, insieme all'Asla di Teramo, che ha partecipato all'incontro con i sindaci, l'importanza di mettere le dirigenti scolastiche in condizioni di esercitare appieno le proprie funzioni e quindi di assumere in autonomia la decisione di attivare la didattica a distanza, qualora in una classe dovesse riscontrarsi un caso di positività. A questo scopo la stessa ASL predisporrà, in tempi brevissimi, un protocollo che sarà sottoposto all'ufficio scolastico provinciale.